Ciao, mi chiamo Mauro, sono di Imola, ho 40 anni, per fondamentalmente sentirmi meglio e stare con un gruppo anche che mi faccia divertire, mentre mi alleno e faccio comunque le cose che mi piace fare, che mi sono sempre allenato, non così, in maniera diversa, però per migliorarmi, per stare meglio fondamentalmente. Prima di iniziare questo percorso di allenamento mi sentivo stanco e demotivato, la voglia di andare in palestra non era tanta e cercavo stimoli nuovi per poter comunque migliorare. Nelle miniclasse ho trovato una famiglia, diciamo, tra virgolette, dove ci si confronta, si sta bene, ci si diverte, ci si allena sempre con il sorriso e la voglia di migliorare, di essere motivati non manca mai, mi sento molto meglio. Max è un allenatore con una spinta che io penso che uguali non ce ne siano, ti dà sempre la carica, ti indirizza nel modo migliore per fare le cose e ti supporta a 360 gradi, insomma, mi sono trovato molto bene. Certo, lo consiglierei a qualcuno, l'ho anche già fatto e sono rimasti contenti, quelli che gli ho consigliato, diciamo. Grazie a te Max! Grazie a tutti! Grazie a tutti!